Quattro scatole, cinque scatole. Mi romperebbe le scatole se non trovassi niente per me su cinque scatole. E questo non me l'aspettavo! Incredibile! Incredibile! Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! Allora, era un po', era un po' che non cadevo nella tentazione di rischiarmi la cena. E oggi è il giorno. Oggi è il giorno in cui rischierò di stare senza cena. Però, alle brutte, qualcosa in frigo c'è, insomma. Ma, ho i piatti pronti dei umami, quindi in caso apro il freezer e me mangio quello. Ma, ma, ma. Oggi sono andata a prendere due, dico due, sono riuscita a prenderne due, box misteriose di Too Good To Go al Conad. Io vado al Conad di Via Settevalli, che di solito ci ha sempre dato delle grosse soddisfazioni, se proprio vogliamo dirla tutta. Cioè, di solito è il Conad. Però, non so se qui dentro c'è del cibo pronto o del cibo da preparare. Perché ogni tanto ho il Conad con Too Good To Go, che ha un ritiro molto lungo, dalle 11 di mattina alle 6 del pomeriggio. Io sono andata a prenderle prima, tipo alle 3, una cosa del genere, e l'ho messa in frigo. Non l'ho aperte, l'ho messa in frigo e adesso si è fatta ora di cena. Io potrei, e dico potrei aver fatto un riposino e adesso vorrei mangiare perché sono 8 e mezza. Quindi io spero che qui dentro ci sia la mia cena. Le box costano 4,99, io ne ho prese due, quindi 10 euro. In teoria ci dovrebbero essere 30 euro di cibo. Allora, io spero che ci sia dentro la mia cena e soprattutto qualcosa da riscaldare per Luca quando torna dalla serata. Perché se no mi tocca preparare la pasta, non c'ho voglia. Quindi io spero che queste due box, che sono belle, due belle pesanti devo dire, ci diano delle soddisfazioni. Le ho prese prima, le ho messe in frigo, non le ho aperte, quindi surprise, surprise. Però adesso vediamo insieme che cosa c'è, ma soprattutto se posso cenarci. Io lo spero veramente. Allora, cosa vorrei trovare? Vorrei trovare delle verdure, magari gratinate. Una verdurina gratinata ci starebbe bene. Allora, così al tatto non mi sembra che ci siano buste d'insalata, perché se no mi andava bene pure una busta d'insalata. Che c'ho quella salsetta da metterci, che alla fine mi sarei fatta una bella insalata, ma così al tatto mi sembrano scatole. Quindi non credo ci siano buste d'insalata. Sembrano scatole, quindi sembrerebbe gastronomia. Perché ogni tanto al colando ti danno la spesa, ogni tanto ti danno la gastronomia. Così al tatto sono tutte scatole, credo, quindi dovrebbe essere gastronomia. E in questo caso vorrei trovare qualcosa per Luca tipo lasagna, qualcosa per me tipo verdure gratinate, perché sto cercando di rimettermi un po' in forma, quindi mi piacerebbe che dentro ci fosse qualcosa di leggero, insomma. Ma anche del pescetto gratinato chiedo troppo, chiedo troppo perché dentro ci sarà del pollo, della lasagna, della pizza e niente per me. Figuro, come al solito. Comunque, vabbè, ritiro lungo, vado al Conad, ne vio due stranamente, perché del solito appena mettono le box del Conad, che le mettono tipo la sera verso le 7, spariscono. Invece ieri sera apro l'app alle 7 e mezza, 7 e 40 e ce n'erano due. Ho detto, ma sai che c'è? Io mi vio tutte e due, così domani andavo cucinando, andavo preparare a cena. Quindi vediamo se ho fatto bene, oppure era meglio che non le prendevo, perché tanto non c'era niente per cena. Allora, ecco, appunto. Vabbè, vabbè, pizzetta. Comunque pizzetta rossa. Ah, è brutta e me posso mangiare un pezzo di pizza. Volevo evitare? Sì, volevo evitare, anche perché sto cercando di mangiare meglio. Non mangiare la pizza, rovino tutto. Però, va bene, una pizzetta smuzzicata. Non è tagliata, sembra smuzzicata. Guardate. Vabbè, sembra strappata. Non lo so. Vabbè, comunque, un pezzo di pizzetta rossa. Un euro e 39. Vabbè, pizzetta. Tanto la pizzetta, per esempio, la posso congelare. Cioè, sperando che ci sia altro da mangiare, in caso la pizzetta la congelo. Tanta pizzetta. Una gran quantità di pizzetta. Pizzetta come se piovesse. Vabbè. È ghiacciata, perché ovviamente l'ho messa in frigo, eh. Perché loro me l'hanno dato che era ghiacciata. Cioè, era fredda la busta. Quindi, quando sono arrivata a casa, visto che non l'aprivo subito, ho detto, vabbè, metto in frigo anch'io, perché evidentemente c'è stata qualcosa che si rovinava. Allora, torta al formaggio. Ah! E questa è la gioia di mio marito. Ora, mio marito non è qui, chiaramente. So che vi piacciono i video con lui, ma sta lavorando. Quindi, questo video ve lo beccate solo con me. Mi dispiace. Ma Luca sarebbe stato veramente entusiasta di tirare fuori questa cosa dalla busta. Perché questa non è una pizzetta qualunque. Questa è una pizza al torta. Scusa. Scusa mai. Torta al formaggio bassa. E è piena di formaggio, tra l'altro. Però pure questa, se non la mangiamo oggi, perché, non lo so, la posso congelare. Cioè, queste si congelano le pizzette e poi basta a me levarle dal freezer, frigidrice ad aria e ti diventa come nuova. Sono un po' preoccupata. Allora, qui ci sono una scatola, due scatole, tre scatole, quattro scatole, cinque scatole. Mi romperebbe le scatole se non trovassi niente per me su cinque scatole. E che cavolo. Allora. Ovviamente. Come previsto, come previsto, abbiamo dei cosciotti di pollo arrosto. Cosciotto lo chiamerei perché è uno solo. Però, vabbè. Cosciotto di pollo, un euro e 83. 132 grammi di cosciotto di pollo. È un mozzico di pollo, praticamente. Non è proprio un cosciotto, è un mozzico. Vabbè, comunque, c'è sta il pollo. 13,90 al chilo il pollo sta. Ah, la pizzetta questa qua, costa un fracco di soldi perché costa 3,73 euro. Perché sta pizza pesa, poi c'è sta il formaggio, 13,50 al chilo. Vabbè. Un cosciotto di pollo. Vabbè, comunque Luca, qualcosa da mangiare là. Poco pollo. Altre scatole. Che cos'è? Eh, però. Non gratinate. Le avrei preferite gratinate. Però, alla fine, visto che volevo mangiare sano, queste me le posso mangiare. Certo, non è che me le posso mangiare solo queste. Ci sono delle zucchine. Queste, tipo, non sono a fettine come le classiche zucchine grigliate. Sono a bastoncini e sono zucchine grigliate. 14,90 al chilo. Sono d'oro queste zucchine grigliate. 1,79 euro. Solo che sono proprio poche. Sono 120 grammi di zucchine grigliate. Cioè, io ho fame. Anche perché sto a farla brava. Non ho mangiato niente. Cioè, io ho pranzato bene. E poi, in mezzo, ho mangiato solo un pezzetto di melone. Sto a farla brava. Non mangio fuori pasto. Ma almeno al pasto. Porca miseria. Non è in mezzo a mangiare solo le zucchine grigliate. E questo non me l'aspettavo. E però non è che va proprio bene per la dieta. Vabbè, ma il cibo non si spreca. Luca non lo mangia. Ecco la mia cena. Allora, io spero che sia meglio di quella dell'altra volta che avevamo trovato alla Copp. Allora, questa è, scusate, non ve l'ho detto. È frittura di pesce. 29,90 al chilo. 3,77 euro di frittura di pesce. È una porzioncina netto e 26, quindi... Ma la posso pure mangiare per cena con le zucchine grigliate, eh. Che botta di chiù. Eh, però... Allora, l'altra volta l'avevo trovata alla Copp. Regà, immangiabile. Immangiabile. Cioè, una cosa era solo tipo panatura dura con l'olio. Il pesce era svanito per quanto era secco. Spero che questa sia meglio. Vabbè, adesso è de marmo. Cioè... Inassaggiabile. Non si sente niente. Avevo riposta un frigidrice ad aria. Speriamo che sia meglio. Non lo so. Tanto considerate che quello che mi mangio, di quello che mi mangio, sto registrando un video da ormai da mercoledì scorso. Quindi, eh, è tipo un video what I eat in a week. Perciò, poi dopo, registrerò anche che cosa scelgo di mangiare per cena e l'assaggio. Questa la mangio per forza, perché se butta, sia mai in magia che butta frittura di pesce. Però, devo trovare un modo di rinvenirla, perché così veramente si può mangiare. Però, vabbè. Ottimo. Ottimo. Non ci speravo. Non ci speravo assolutamente. Questo pesa, oh. Eeeh! Un applauso. Un applauso per il Conad, che forse sa che sono un po' a dieta. Ma non a dieta. Un po' a maniamo sano che arriva la prova costume, pure se non vai al mare. E quindi, alla fine, che te frega, ti mangi a sano, perché ti puoi mettere magliette larghe, tipo così. Però, alla fine. Insomma, ce sto a provare. Broccolo calabrese bollito. Tanta, tanta, quanto mi piacciono i broccoli. Voi non avete idea, cioè, forse è uno delle mie verdure preferite. Questo è già bello, pronto, bollito, lo devo solo mangiare. 9,90 al chilo, so quattro etti di broccoli, ecco la mia cena. Frittura secca. Zucchine grigliate e broccolo bollito. Wow! Questo è buono. Questo è buono. Poi, vabbè, non è che me posso mangiare. No, sì, vabbè. Se è solo questo, la mia cena c'è. Almeno questo. Almeno questo. La mia cena c'è. Poi, se c'è qualcos'altro, una cosa mangerò domani, insomma. Altro bollo. Non è bollo? Incredibile. Incredibile. È un calamaro ripieno. Ripieno. Madò. Quattro euro e ottantuno, ventidue e novanta al chilo. Due etti e dieci di calamaro ripieno. Voglio vederlo. C'è l'etichetta davanti, non si vede. Ma... È bellissimo! È un super calamaro con i tentacolini ripieno. Ripieno di... Pangrattato, vedo, pomodoro. Vedo delle olive, credo. Madò! Questo è buono, ragazzi! Tanta, tanta roba al calamaro. Eh no, la me do mangiare pure questo, però. Do mangiare pure questo, perché Luca non so mangerà mai il calamaro ripieno. Cioè, manco tortura. Oh! È andata meglio a me che a Luca su sta box, perché io ho il calamaro a frittura e verdure. Eh, Luca, c'è solo il pollo e le pizzette. Strano, molto strano. Ok, il calamaro ripieno, che devo mangiare per forza. La frittura è secca, ma tanta è poca, quindi va bene. A sto punto il broccolo, magari lo mangio domani a pranzo, perché volendo col broccolo domani a pranzo ci potrei fare pure una pasta. Perché faccio un po' di pasta, ci aggiungo il broccolo e faccio la pasta con il broccoli. Va bene, questa era la prima box. Allora, 4, 7, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22 euro, doveva essere 15. Prova, Conad, così si fa, questo è lo spirito giusto, è questo lo spirito giusto. Quindi apriamo quest'altra, a questo punto con delle grosse aspettative. Però, posso dire, basta pesce a questo punto, perché, cioè, non fraintendetemi, mi farei anche il cenone di Capodanno, di pesce. Però, visto che sto un po' a dieta, volevo anche mangiare il giusto, perciò un calamaro, un po' di frittura e delle zucchine mi sembrano corrette per cena. Se ora io qui trovo altro pesce, me lo devo mangiare per forza, anche domani a pranzo, domani a pranzo, perché Luca non se lo mangia il pesce. Quindi devo per forza, cioè, spero di trovare qualcosa per dargli una cena, così quando torno and devo cucinare. Allora, vediamo, seconda box, oh, qui sento due ore di cipolla, eccola, 2,22 euro, 9,90 al chilo, 2 etti e 24 di pizzetta con le cipolle, che comunque è sempre gradita. Perciò, per ora, abbiamo tre pezzi di pizza, la congelo, la congelo sicuro perché Luca la pizza l'ha mangiata anche ieri sera quando è tornato, quindi stasera non se rimangia la pizza, spero di trova qualcos'altro. Forse mangerà la torta al formaggio bassa, però, perché ce n'è un altro pezzone gigante, e vabbè, 3,21 euro, un po' più piccolo di quello di prima, però comunque è un bel pezzo di torta al formaggio, e 3,21 euro, 13,50 al chilo, 2 etti e 38, quella di prima era 2 etti e 76. Ok? Vabbè, quindi, come prima, abbiamo due pizzette sostanzialmente, una a cipolle e una al formaggio. Poi, qui c'è meno roba, una, due e tre scatole. Come mai? Che cosa c'è? Che cos'è sta roba? Nooooooo, non sono mai stata scontenta di trovare questa cosa, ma adesso sì, perché io non me posso mangiare pure questo. Come faccio? Cioè, me posso mangiare due calamari ripieni a cena? Non posso. Quindi questo me lo devo mangiare domani a pranzo per forza, perché sennò si spreca. E vabbè, cioè, è buono, eh, non fraintendetemi, molto buono, calamari ripieno. Io spero che non sia la stessa box replicata, cioè che c'avano tanto avanzo. Forse valuterei, Conad, di non fare più i calamari ripieni a questo punto, perché evidentemente non vanno. Allora, la cosa comoda è che la vaschetta è d'alluminio, la posso mettere direttamente in frigidrice ad aria. E niente, questo è un altro calamaro più grosso, però, perché questo è 5,68. 2,48 di calamaro ripieno, bello pure questo, gigante, bello, bello. 22,90 al chilo stanno i calamari ripieni. Vabbè, per ora stanno le stesse cose, eh, cambia solo il tipo di pizzetta. Oh, madonna, questa pesa una tonnellata. Che cos'è? Ah, ecco la cena di Luca, eh, ecco qua. Insalata di riso. Ammazza. 6,41 di insalata di riso. E questa è per forza di Luca, perché intravedo un cubetto di prosciutto cotto. Poi le insalate di riso delle gastronomie sono sempre un po' un'incognita, perché... Allora, a differenza del Conad di Gaggi, quello dove prendiamo le cose con il Conad tipo fighetto, che ha le cose buonissime, però non mette le etichette. E quindi tu vai a intuito. Qui l'etichetta c'è, nel senso che c'è l'etichetta insalata di riso col codice. Solo che gli ingredienti li devi vedere nel coso, nel libro degli ingredienti che c'hanno loro. Non ci sono scritti gli ingredienti, quindi non ho idea. Però così a occhio vedo carote, piselli, olive, tonno, cubetti di prosciutto cotto, penso sottaceto, mais. Insomma, l'insalata di riso classica, diciamo. Pesa una tonnellata, quindi io direi che Luca stasera, quando torna, mangerà della splendida insalata di riso con del pollo. Ok, però questo abbassa il valore della box, perché questo già... Cioè, non il valore, la varietà. Perché questa già pesa tanto e sono 6,41 euro. Quindi il calamaro 5,68, infatti c'è solo una scatoletta. Piccato! È finita! E che cosa... Oh! Ah! Bella! Bella! Ora, quanto devo mangiare? Troppo! Però pure questi me li posso mangiare tranquillamente domani, ma anche lunedì, secondo me. Perché questi sono carciofi alla giudia. 5,45 euro, 14,90 al chilo. Sono 3,66 di splendidi carciofi, solo che, sì, secondo me, questi li posso... Cioè, o questi o i broccoli li mangio domani. Cioè, non mi posso mangiare tutto oggi. Domani, domani sera, lunedì, che cos'è secondo voi che arriverà lunedì? Non lo so, perché tra l'altro questo video uscirà lunedì, quindi non posso neanche chiedere consiglio a voi. Vabbè, secondo me, alla fine le verdure cotte, se tu te fai tipo il meal prep, che c'è la roba preparata in frigo per due o tre giorni, Broccolo te lo puoi anche mangiare tra due giorni, non è che gli succede niente, lo tengo in frigo, voglio dire, uguale carciofi. Quindi una di queste due cose arriverà lunedì e sarà il mio pranzo da portarmi al lavoro, probabilmente. Però potrei anche ricucinarli tipo con i carciofi, ci posso fare, che ne so, un sugo o una lasagna, una pasta al forno per dire, che c'ho la beciamella della... ci posso preparare una pasta al forno, uso questi carciofi, la metto, la cuocio, cioè la preparo e la congelo. Così c'ho una pasta al forno con i carciofi fatta solo da cuocere, congelata, e quando vogliamo mangiarci una pasta al forno, tiro fuori questa. Potrebbe essere una bella idea. Perché alla fine l'importante è quando uno prende queste box di to go to go, e anche poi non sprecare il cibo, chiaramente, perché se tu le prendi e poi non ti mangi quello che c'è sta dentro, se spreca. Allora, io spesso porto le cose a Clito e Donadella, ma stasera ho fatto tardi, sono già alle 9, quindi sicuramente avranno già mangiato. Se avessi aperta prima, l'avrei portata a loro, però chiaramente mi sono addormentata sul divano con una broccola, infatti sto a cena alle 9, c'ho una fame e me se porta. Però va bene, se no l'avrei portata a loro. Ma sono tutte cose che il calamaro me lo mangio domani, uno me lo mangio stasera, Luca si mangia l'insalata di riso, i carciofi o i broccoli li ricucino in qualche modo, e quindi la cena per stasera ce l'ho, e già non mi pare poco, per niente. Mo metto tutto in frigidrice ad aria scaldà, e io stasera me mangio calamaro, fritturina, perché se no se sprega, ma tanta e poca, e le zucchine. Per il resto, metto in frigo, questo se lo mangia Luca, sta coscia di pollo, che tanto, cioè, la potrei aggiungere all'insalata di riso, manco se ne accorge se gli ha spolpo, è talmente piccola. Quindi, coscetta di pollo, le pizzette le congelo così come stanno, non le lascio neanche fuori, perché tanto so benissimo che noi le mangiamo tra oggi e domani, se no poi si seccano, è un peccato, quindi le congelo subito, così quelle appena le devi fuori dal freezer so perfette, le metti nella frigidrice ad aria nel forno e so perfette. Pensate che quella volta che abbiamo fatto il video della sfida delle pizzerie, prima o poi farò il secondo episodio, però purtroppo le altre pizzerie sono in centro, e hanno tutto un orario di ritiro tardissimo, tipo alle 11 di sera, alle 10 e mezza, è un po' un casino andarle a prendere, cioè, non c'è poi cenà, le devi prendere, ma poi non c'è poi cenà, perché che ce ne hai, 11? Però, vabbè, quando abbiamo fatto la sfida delle pizzerie, io poi, era tantissima quella pizza, perché c'avamo tre box e tre pizzerie diverse, ci abbiamo cenato, ma poi era tantissima, io l'ho congelata tutta separata, e ci abbiamo mangiato pizza, cioè, pizza surgelata, sostanzialmente, proprio a dire fuori, la Scaldi è come se fosse appena comprata, quindi, invece di comprare le pizzerie, surgelate, per un periodo, c'avevo la pizza surgelata, pure buona, devo dire, quindi alla fine, quindi farò la stessa cosa con queste pizzette, poi tra l'altro è torta al formaggio, quindi Luca ci esce pazzo, bene, sono soddisfatta? Molto, ah, non ho fatto la somma della seconda box, 5 e 4, 9, 15, 20, 22, pure, no, 22, 25, 27, tipo, donna che box, ragazzi, cioè, ho speso 10 euro, ho portato a casa 50 euro di roba, pure il bono, c'è pure il pesce, brava Chiara, ottima idea quella di ieri, di ordinare due box, così non devi cucinare la cena, bene, io comunque amo le box dei supermercati, vorrei che a Perugia ci fossero più supermercati che le facessero, però, eh, per ora, no, anzi, eh, signore dell'Oasi, signore dell'Oasi, signore dell'Oasi, se lei vuole fare le box di The Good To Go, io sarei molto contenta, signore dell'Oasi, perché ci sono tutti i supermercati, cioè, la Coppa le fa, il Conad le fa, c'è un Carrefour che ogni tanto le fa, perché noi abbiamo solo un Carrefour piccolino, eh, però c'è anche altri supermercati e non le fanno, tipo il PAM, tipo l'Oasi, quindi voi, se volete fare box, io voi le prendo, eh, io so contenta, bene, quindi, da, mamma mia, però, ma che è questo circo? Ho detto solo quindi, dalle box del supermercato di The Good To Go, che mi svoltano la cena, è tutto, e vabbè, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Un chihuahua mannato!